L'articolo 97 del codice degli appalti uccide le piccole e medie imprese. E poiché il tempo delle promesse non mantenute è finito, passeremo ai fatti. Le principali organizzazioni rappresentative del mondo produttivo sul versante datoriale mettono in mora la regione e chiedono la modifica della norma. Siamo pronti per una grande e immediata mobilitazione attraverso la convocazione dei nostri stati generali. Se a breve non vedremo risultati concreti, ovvero norme efficace ed incesive volte a salvaguardare e tutelare le numerosissime piccole e medie imprese siciliane dell'edilizia. Unica garanzia e spina dorsale del settore per lo sviluppo economico di occupazione nell'isola. A lanciare l'avvertenza, le federazioni regionali di Ange Sicilia, CNA, Conf Artigianato, CLAI, Casa Artigiani, Legga Coop, Conf Cooperative, Creda, che fanno fronte comune e si appellano al presidente della regione siciliana, al governo regionale, alle forze politiche presenti in assemblea regionale, per il ruolo istituzionale che a loro compete. Per loro l'articolo 97 del codice degli appalti ha effetti nefasti e devastanti che stanno paralizzando un intero settore, fino a qualche tempo fa, motore trainante dell'economia siciliana. Gli incontri finora tenuti, sì, per la modifica dell'articolo 97 del codice degli appalti, hanno prodotto la proposta inserita in un disegno di legge collegato alla legge di stabilità, la cui approvazione consentirebbe alle imprese di potersi aggiudicare l'assegnazione di appalti senza dover obbedire al disastroso criterio dei cinque metodi di calcolo ad incremento costante, che ha prodotto ribassi fino all'attuale 45% e agli enti appaltanti di ottenere una maggiore ed oculata esecuzione nella qualità dei lavori seguiti.